Grazie Presidente, era per presenza una mozione d'ordine in quanto abbiamo raccolto le servizie necessarie per convocare di urgenza la Commissione Sanitana per discutere degli ordini del giorno che ieri, secondo noi, ingiustamente e maldestramente sono stati rimandati in commissione. Era un soggetto ordini del giorno, vorremmo discutere il prima possibile e quindi abbiamo fatto questa richiesta. Chiaramente, essendo sicuramente anche profedeutici alla legge che stiamo discutendo in Aula, chiediamo anche la sospensione dell'Aula in attesa che la Commissione discuta questi ordini del giorno. Quindi ricordo la disposizione inizio legislatura dell'Ufficio di Presidenza che non consente la convocazione a meno che espressamente e preventivamente autorizzata dal Presidente delle commissioni ordinarie e non ordinarie durante i svolgimenti dei lavori del Consiglio, quindi la mozione non è accettata. Grazie a tutti.